Justin Bieber ha ancora nei guai con i paparazzi Justin Bieber ha ancora nei guai con i paparazzi Dopo l'annullamento dell'ultima fase del tour mondiale a causa di un forte esaurimento del cantante o, come sostiene qualcuno, di una, Justin si trova di nuovo al centro delle polemiche a causa di un episodio avvenuto all'uscita di una chiesa a Beverly Hills La dinamica dell'incidente Bieber, come sempre assediato dai paparazzi, ha, infatti, investito incidentalmente un fotografo che, per fortuna, non ha riportato danni seri La pop star si è fermata a prestare soccorso all'uomo e la dinamica dell'accaduto appare piuttosto chiara e, questa volta, Bieber non voleva far male all'uomo I precedenti in passato, invece, il cantante è finito in tribunale, era il 2015, per aver picchiato un fotografo troppo invadente e il suo rapporto con i paparazzi non è mai stato idilliaco Corsa in auto per sfuggire agli obiettivi del gossip, dito medio levato al cielo in più occasioni e tentativi di camuffarsi per sfuggire all'invadenza dei cercatori di scoop Era da un po' di tempo che sembra lontano il periodo in cui è corse clandestine all'apice di un anno fatto di brevate e guai di vario ordine e grado, dal lancio delle uova contro la casa dei vicini ai collassi sul palco fino all'incidente diplomatico sfiorato con Argentina per aver calpestato la bandiera del paese durante un concerto Ciao